Ciao scrignò, speriamo che prosegua bene non fa ridere, la musica è bellissima lo sto iniziando ora, non so minimamente niente il loop sono i tuoi di testa non skippabili, si ma però comunque è una bella introduzione, mi sa tipo, mi ricorda qualche serie davvero questo gioco dura circa due ore, c'è chi dice due, chi tre, chi quattro, chi cinque durasse due ore potremmo andare a letto e non l'ho finito bisogna averla vista sta cena, eh ma è un loop, il loop raga in realtà è la mia string eh, non vi ho mai detto dove, cioè tra oggi pomeriggio con deathloop e questa sera con 12 minutes impazziamo, comunque la storia di deathloop è veramente figa, eh voglio essere, voglio sbalordirmi con questa, spero che sia una bomba se non la ridi è bello che anche, allora, schermo intero, alta, c'è tutto dietro, posso uscire dallo schermo col mouse, ti prego ok schermo è bloccato, via premi, c'ha senso per spostare si, si vede dall'alto, tutto il gioco si è dall'alto clicca su un oggetto interattivo per utilizzarlo dipinto ah, è rosso qua dipinto forse è un indizio occhio, potrebbe essere un indizio tipo questo potrebbe essere un indizio per dopo per dire potrebbe essere una, questa è una libreria, c'è un libro rosso io nel dubbio me lo segno, il quinto è da destra e la fila centrale pianta vabbè, cosa può fare con una fila ah sasso finto ho preso un sasso finto ok il doppione, ah, quindi era lì sposta il cursore sulla parte in alto per prendere l'inventario, ok ah, il sasso finto è in realtà dentro le chiavi figa come cosa ah, puoi mettere le chiavi sotto un vaso dentro una roccia finta nel vaso 100 IQ clicca all'esterno dell'oggetto per selezionarlo per uscire no, ho solo bisogno sbagliato per usarele per entrare in ok, ecco è scoperto ah, devo fare così ho buggata la mano c'è il tempo inizia a scorrere quando lui dentro la parte l'entra hey babe, I'm home love you I'll be out in a second hey there I don't got anything to ask, right ho provato un dolce mi sarebbe una cosa di mangiarlo beh, noi sicuramente se questo è un loop bisogna capire che cavolo succede quindi la prima cosa è vivere la giornata immagino, ovvero ci sarà un problema che avviene ho preso una tazza vediamo però cosa possiamo fare allora, vediamo la stanza dito via la birra ah, ha preparato il budino no andiamo a vedere la stanza eh, davanti qua c'è il bagno cadere in bagno sono dei sonniferi e basso oh, ho scoperto di chiamare la stanza la stanza vuoi fare la stanza la stanza è lasciata oh, thunder non eravamo una stanza non eravamo una stanza non eravamo una stanza posso accendere la stanza interruttore che brutta roba che brutta roba Non ho capito Cioè ha messo lui Ha messo lui un regalo dentro Cioè lui sta tornando Forse lui sta tornando a casa Con un regalo per lei O del genere Invece cosa è Storni sono arrivati vicino E' il contrario Ah l'ha preso ma sembrava Ah quindi vabbè sì Il cambio mi sembrava Avesse aggiunto qualcosa E' una scritta Leggi qualcosa Ci sono 1, 2, 3, 4 caratteri possibili Come se ne fosse una scritta Non è importante questa roba Un altro dipinto qua E un altro ancora dietro Un uovo Ah vedi No l'ha preso il regalo Ok Non so se glielo può dare il regalo Questo è un altro dipinto Posso Come ha organizzato questa realtà speciale Quindi lui Andiamo di capire il contesto Te lo dico mentre mangiamo il dolce Ok mangiamo Allora I'm ready to get wowed by this dessert Just give me one second C'è qualcosa a che fare con quello che mi deve raccontare Non è che io ho preso il regalo Mi vuole dare lei Ho avvisato tra polizia Ho preso il regalo Ho sbagliato Ho preso il regalo Ho preso il regalo Ho sbagliato Sì Tu 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 Il regalo Del regalo c'è solo prendendo il regalo gli ho fatto arrivare un poliziotto ciao c'è sempre c'è sempre Dovevo dare meglio. Proviamo? Non ho preso il regalo questa volta. Ok. Sorry, sometimes that happens. Ah, lei ha acceso la luce e si è fatta male. Prende il regalo. E viene. Non manca tanto quando arriva il poliziotto. Più o meno arriva tra poco, perché il tuono c'è dopo due minuti. Prende la tazza, perché l'avevo preso io. Prende l'altra tazza. Lava. Entrate, vieni. Pazzino. Io ho paura che il poliziotto arrivi. Magari è un assassino. No, lei. Magari lei è davvero mezzo psicopatica. Mi dici niente? Cosa? Mmm. yeah I'm pregnant we're having a baby wow yeah wow so how are you doing over there why Dahlia I wanted to name her your mother but I never even knew her so she's still a part of you yeah what if it's a boy if it's a boy then he won't be able to read that there's someone else's name on his onesie it's a nice surprise don't overthink it now you want to talk about the actual pregnancy abandona conversazione magari se ne va hey it's gonna be great you think so you kidding me you're incredible and I'm you know decent the baby that we make is gonna be amazing and it will be so so loved yeah down straight god I love you hey we're doing it we're having a baby hey don't laugh at me but do you want to dance with me e' arrivata poliziotta e adesso absof yeah I'll get it I'm with the police turn around please what me yes you hands behind your back let's go hold still hey you're hurting me what is behind your back please help me don't move all right all right easy grazie crystal grazie per il 39esimo mese you're under arrest for your father's murder eight years no 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 that can't be right shut up you know what this is now where's your father's watch my father please you must be thinking of someone else ah no playing dumb tell me where the watch is I'm not lying please don't hurt us honey tell him he can't help you just you and me tell me where the watch is and we all go our separate ways I'm telling you I don't know about anyone okay let's just see babe will you tell no 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 please 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 okay 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 just stop just stop please just don't don't hurt him please please watch is in there oh okay so what do we do to find the o'clock I was saying but I killed before oh God you're okay Cosa faccio? Convinco la moglie a... Chiede come è morto suo padre? Chiede l'ora già la taschino? Chiede perché ha mentito su suo passato ma non può sapere. Un po' stronza questa allora. Come è morto tuo padre? Ciao. In the next few minutes a cop is going to knock on a door. What are you talking about? Come on, it could be anyone. Il giusto che ti ha fatto da fare il mio padre. Il mio padre ha un attacco. Tu sei un po' di là, c'è un po' di là. Come on, let's just leave before he shows up. Come on, are you that scared of my cooking? Come on, he's gonna hurt us. At least he won't be on an empty stomach. I'm asking you, please, just come downstairs with me. Five minutes, tops. No, I'm not going downstairs. No, I'm serious, please, don't open the door, it's important. This isn't funny, babe. Don't open the door. Just trust me. Okay, I won't. Oh, thank you. Prima di dire che la giornata ricomincia. Vediamo se mi dice qualcosa che posso ripeterle poi. I'm stuck in a time loop. So, there's a cop and a time loop. Yes, yes. Jeez. Dimostra che la giornata ricomincia. I'll prove it. Yeah, great, let's see it. Wow me. Eh, provalo in qualche modo. Let's see. Tuono. Dai, il tuono, lei che è incinta. Segue. La luce esplode. Dai, ne abbiamo un paio, ne abbiamo scoperto. Dai, l'interruttore che salta? Dai, che incinta. Dai, che incinta. È la prima cosa. Beh, c'è una maglietta. Il regalo. Ah, vai a prendere il regalo. Ci sta. Ah, glielo devo mostrare, scusate. Bisogna trascinarli in questo gioco. Questo present. Guarda, guarda, è chiaramente inopente. Ma, io so che c'erano i bambini dentro. I just bought them today. How could you know? You're kind of freaking me out. But do you believe we know? I mean, I'm getting there, I guess. All right, let me try and prove something else. Non so che... Eh... Sa che dentro il coso c'è il dessert, ma come fa... Non penso che glielo possa dire. Devo portargli io qualcosa. Non abbiamo altra roba. Let's see. Non ho nient'altro da per dimostrarle che siamo in un lupo. Come facciamo? Non posso mica prendere il piatto. Il dessert, I know you made my favorite. I know. I told you I did. Oh shit, yeah, yeah. Ok, something else. Let's see. In a few seconds. We'll hear thunder. Yeah, we just heard the storm rolling. Thunder in a rainstorm. What do they think of next? Let's see. Se hai qualcosa altro. Questa porta non abbiamo aperto. Niente, dovremmo vederlo. Ci servirà... Ci serve un messaggio dal futuro, secondo me. L'interruttore non va, ragazzi. L'interruttore non me lo dà come... Come... Impress me, Nostradamus. Oh, mi sembra che... Il wiring in the bedroom, let's switch. È troppo tardi. Oh, lei. Oh, no. Let's deal with the door first, ok? Let's talk later. Wait a second in the opening, you know? Let's talk later. Oh, isn't it? Oh. Come on, I know you're home. Open the door. That's him, isn't it? Just... Let's stay quiet. What? I'm with the police. Turn around, please. What? Me? Yes, you. Hands behind your back. Let's go. Hold still. Stop. I'll come with you. I'm not... Oh, my... Don't fucking move. Help me. Will you come help me? Wait, uh... Hey. Hey. What the fuck? What? Are you kidding me? No, 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 fermo. Apri la porta. Veloce. Mi serve un giro qua. Non lo trovo. Dobbiamo vivere il loop un attimo. Bisogna capire cosa succede dopo, dal suo telefono. Ci servono più informazioni. Mamma mia. Dice anche me. I didn't hear you. Come in. That's night. Great. I'll... Okay. Ci servono altre informazioni. Del... Che possono avere... Tipo la radio. Aspetta, c'è una radio. Questa è interessante. La radio. Vediamo cosa dice. Oh. Andiamo in bagno. Ah, tra l'altro sul telefono. Sì, tu è sul telefono o dopo? Hey, I finally remember to put the spirit key outside. Non lo trovo. Oh. Noi. Oh. It's empty Hunter I was not expecting a storm tonight I have no idea Guarda quanta roba puoi fare sto gioco Care to dance? Wow, look at you, so romantic All right, take my breath away Milady I can't remember the last time we danced Well, we have not lost our rhythm Like riding a bike Yeah This is nice Yeah Babe I'm still got two left feet I like the way you use him I know I say this a lot, but I love you I say this a lot too, but Back at you Thanks for that That was nice The next loop Entro e dico subito Che la giornata si ripete Voglio farmi dire dov'è sto maledetto La loop Tra i minacciarla di dirmi dov'è il coso Tanto la giornata si riserte Non opzione Redattolo su 12 minutes? Assolutamente Oh No Vai, neanche vuoi dormire Ho sentito la Ho sbaglio sento l'ascensore Police Open up I'll get it I'm with the police Turn around, please What? Me? Yes, you Hands behind your back Let's go The hell Hold still No Coglione però C'è C'è Dai Lo prendo le prossime volte Lo prendo alle spalle Ci provo Ah, ricominciamo Stagiornata Pigliamo il coltello E lo teniamo Aspetta, aspetta Fatti abbracciare da sta donna Ciao Ciao La clacciata al poliziotto Quindi non va bene Vedi sta calzando il coltello Allora Allora Fermati Vedi lo stesso giorno Purtroppo nei messaggi Non ha roba diversa Ha soltanto messaggi da suo marito Cioè, che palle Cioè, cosa passa la radio Che vero lupo è di mostrare come Il tuono Appena stato Ah, delle chiave Non c'è Sì, è dopo un botto Intanto chiudo la serratura Buona conversazione Vabbè, ma ho cliccato per errore Non fare il cretino Clica qua L'interruttore è rotto Ma si vede che è Raga, io per ora Non ho robe che dimostrino Che la giornata si ripete a lei Purtroppo Il suo telefono Il suo telefono C'è soltanto messaggi da me stesso Quindi se io le indico il telefono Non succede niente Vedere Ho provato Ci ho provato, raga Che devo dire Un aperto dipinto Aprirlo Sì, c'era Un'altra Un'altra Eh, lo sai già Cominciamo un po' a muoverci Non posso aprirlo a mani nude Usiamo il coltello Lo apriresti con il coltellazzo Lo farei assolutamente Dai Bravo No, no Lui è un fucking bomb E quindi cosa c'è lì dentro? Niente Brava Brava Norma Mettiamoci la candeletta dentro Vediamo che succede E vedere cosa c'è lì dentro Ho appena iniziato Sì Ha vinto La nazionale di Palla a volo Ha vinto l'europeo Cerchiamo di finirlo stasera Visita in Curiosity Adesso proviamo a scoprirlo Il fiore No, 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 no Ho sentito l'ascensore Ok, guarda lo spioncino Oh, l'ho chiusa questa volta Non è vero Non ce l'ha neanche un mandato Non lo so cosa sto facendo Non lo so Non so cosa fare Eh? Puzza Ok, faccio qualcosa Faccio qualcosa Vai, andiamo a un momento No, questo l'aspetta sempre L'ho presa le spalle però F*** that guy Per davvero La candela e le continuazioni Cosa dovrebbe servire? Grazie Villa Ecco cosa mi ero perso La sub di Villa Chiama la polizia dal telefono Sgabuzzino va I didn't hear you come in Best night ever Let me know Yeah Let's talk later F*** that guy Dì che tua moglie è un assassino Infine la polizia dal telefono Tra 15 minuti C'è un polizia dal telefono C'è un polizio che dopo 6 minuti Entra in casa ma ammazza Accusando mia moglie di aver ucciso suo padre E che sta cercando un Questo poliziotto sta cercando un orologio Questa è la trama spiegata In 10 secondi Dobbiamo andare avanti con qualcosa Dobbiamo portarci avanti con qualcosa La combo coltello candela nel condotto di reazione può essere una cosa interessante Ok Io non so cosa possa servire la candela nel condotto di reazione Però quanto pare funziona Facciamo Farle bere il sonnifero E cosa mi dovrebbe portare a fare Vabbè Facciamolo Per carità Facciamole bere il sonnifero Personalmente non ho idea di cosa possa servire A farla addormentare Oll'altra I forgot to call the landlord about the light switch Mind doing that tomorrow? What you readin'? Oh It's not really your thing Ho ho Try me You're gonna make fun of me It's a book of meditations Zen stuff Yeah, it's not my thing Let's talk later Cosa sono le informazioni? Ecco una citazione Ok questa possiamo saperla solo Questa informazione Poi nascondi uno sgabuzzino Mi nascondi uno sgabuzzino? Già Passa un minuto arriva la polizia Ah no Ho dovuto aprirsi le cose Oh Dobbiamo pulire la polizia Stiamo andando con l'armadio Oh 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 Fasca amare. Perchè mi ha fatto sgamare lei? Non ho capito. Posso provare a dirle a lei che arriva il polizio e non dire che si nasconde? Ci deve essere una soluzione. Non è un poliziotto, è un poliziotto. Mi ammazza, raga. È un poliziotto, che non è un poliziotto, è un... Jeric! Grazie per il settimo mese, però ne siamo morti. È nel quadro? Mi prenderò anch'io, adesso mi sta proprio subicato. Ora si... Oh, figata, lo fa! Si aspetta, non mi sono fatto vedere dalla moglie. Vediamo che cazzo ero la succede. Al sesto minuto arriva il poliziotto. È bella sta cosa. Vediamo cosa succede se lui non si fa mai trovare dalla moglie. Arriva al sesto minuto e... Vedi, così non mi snincia. Se mi trova comunque per la roba apparecchiata, spacco tutto. Non ho il tempo di portare via la roba della tavola. Non ho il tempo di portare. Non ci sono anche qui. Più. Anche l'aspetto. Anche l'aspetto. Anche l'aspetto nel palazzo. Anche in att�anzi subito. Anche in attenzione. Anche in attenzione. Anche in attenzione. Sei ti cercano a spire? Sì. Non mi sono appartisticato. Oh! In the vent in the bathroom. Oh! Don't shut up. I did. Wow. It's time to leave the corpse as if you could kill him. Oh my God. I think it's enough to get out of the door. Where is he? Oh my God. Are you... No. No. It'll restart. It has to restart. I can't do this. It's not... It's not really like losing you. Alright? And the baby. Oh fuck. It's gonna restart. I know it will. It has to. I gotta hear you... Ok. Can you see? The revolver is an object. I can take it. It's only... I guess now. Okay. Let's take it. It depends on my hardest shit. La revolver deve avere un'utilità No? Oh, fuck me, sei serioso? Ah, il regalo Tra l'altro ho trovato subito un regalo appena n'è stata la mia, il mio gameplay Questo è tuo Facciai saperlo? Preparo, ora ti stupisco Ho cliccato le candele perché volevo vederci nella grida di ariazione Vabbè, è un po' un cretino il personaggio, c'è una cosa, abbandona la conversazione Prendiamo prima l'orologio e poi dimostriamo È un po' scemo Un po' scemo, lui non, ma lei Oh Me ne vado? Se ne va? Se ne va di casa Se ne va di casa se ne prendo l'orologio Oh oh Ah, lei che prende il codice Quindi così lei la faccio, così faccio andare via lei, così non ci crepa Interessante come cosa Interessante come soluzione Chiedo scu... No Quel chiedo... Mi seguo a suo appartamento Oh Aspetta, aspetta, aspetta Oh Allora Non so che ce l'ho, dammi un secondo Perché voglio fare un'altra roba No Chiudi sta porta E guardiamo l'orologio Ah, l'orologio è quello del meno Ok E l'orologio non mi dice E questo era l'orologio del mio padre Ehi, mi stai scusando Cosa è going on? Cosa dovevo fare? Lei scappa dall'appartamento Dimmi cosa dovresti fare, lo facciamo Se esco si resette al lupo Non posso uscire E cosa dovrei fare? Darglielo? Ci ammazza Ma non mi... Ma non mi continuiamo Calma Questa è una bella cosa Però così muore la moglie Però così muore la moglie Cioè, secondo me io devo fare Ok, lui Voglio vedere così Se mi ammazza la moglie E prende l'orologio Vediamo se mi trova Ok Non muovere Non muovere Ok Questa volta mi ha detto Che ci sono Questa era un bel loop Comunque Questa era un bel loop Beh Allora Questa sequenza è interessante Perché cosa succede? Io inizio Vado subito a prenderle il... Vado subito a prendere l'orologio Potrei chiudere la porta del bagno Oppure potrei chiudere la... La... La porta di casa Quando lei se ne va Non lo so cosa fare Però mi sembra Questo è un loop interessante Riproviamolo un attimo Vedi che qua è chiusa Aspetta Coltello Ciao Hey there I didn't hear you come in Best night ever Guess who made dessert Let me know in your... Yeah I will Proviamo a fare silenziosi Non diciamogli niente Tu cosa faresti? Prendiamo... Prendiamo sto cochi Chiudiamo la porta Ok Così non mi vede Prendo il... Andiamo sotto E apriamo la griglia di areazione Che ora ci vedo Ok Ho l'orologio Ti lo faccio vedere? Prima che lei scappi Che dite? Insieme al regalo Prendo tutto Le parliamo? Vediamo come reagisce Allora facciamo prima del polizio In the next few minutes In the next few minutes A cop is gonna knock on a door What are you talking about? Look I can't explain right now Just trust me And don't open the door What? Just please Ok Ok I won't I am stuck in a time loop And that is how I know about the cop Uh huh I'll prove it Yeah great let's see it Wow me Let's see Dove ho chiudere la porta Ora le faccio vedere L'orologio E sploda I found your watch In the vent What? And there's more You get accused of killing your father What? What are you even saying? I need you To tell me the truth Where is this coming from? I told you I've already lived this I'm living the same moment Over and over and over I don't even know where to start My dad Wasn't always the man he wanted to be After I was born My mom was really focused on me And I guess my dad felt It doesn't matter Uh He started sleeping with my nanny It was the start of my mom's spiral Nothing was the same After she died I blamed him I mean It was Sort of His fault And I poked at him A lot We fought Nobody can hurt you Like the ones you love Right? Oh Anyway God Hey I know that this is hard I know that this is hard I know that this is hard I know I need to know Yeah Yeah I'm a creep I'm not closed I'm sure I'm interrupted He caught me trying to sneak out And I was so Mad I just poked at him And prodded at him And he hit me Jesus Christ Anyway I saw Red Of course And He always had guns around I grabbed one And I shot him And I just ran He was ammazzato Suo padre For davvero He was here 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 I was going to turn myself in But it was a new year A few weeks later You showed up And Wow And things were almost good Before it all ended a day I killed my father Wow Never thought I'd say that out loud And now you know Please Talk to me Will you just Say something What now So then Lo sappiamo Perché ha mentito il suo passato Per stare con noi Cosa dovrebbe rispondermi Dove hai preso l'orologio Credo sia la domanda più interessante Tra queste quattro Eh La prima Vabbè la perdoni Vabbè Chiedile perché ha mentito il suo passato Chiedile perché ha ucciso il suo padre C'ha già più o meno fatto capire Sarà innamorata di lui Ha ucciso il suo padre Perché era geloso Che andasse a letto Con una Con la tata Dove hai preso l'orologio Prima la perdono E poi Mi sarà più No La Polaroid diventa Bravo Apple Diventa una prova Per il prossimo loop Sì E Matoma Manca te La perdoniamo E poi l'orologio Prima viceversa Vedite 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 Prima la perdono E poi le chiedo l'orologio Magari posso fare una sola delle due Dai dimmi Dai la perdoniamo Non importa Non importa Se hai dato tutto 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 che importa È che abbiamo Un'altra Ma non è che ho detto Una domanda Ma non è che ho detto Ma non è che ho detto Ma non è che tu è casa Aprile la porta Ma non non ricordi Questo Ma non ci si non Non ci si Non ci si Non ci si Non ci si Ma non ci si Ma non ci si Ma non ci si Ok Ma finisce Magari è più propensa A raccontarci dell'orologio Perdonandola Perché ha ucciso suo padre? E di nuovo? Ma? 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 Oh, ma? A warrant for your arrest Oh shiet Oh, shiet I'm on the ground Now Don't move She can't be happy No one can go No one can go Wait, wait, wait Please, please, listen Come on Oh, god Laffle me in the end Oh, god Puls- stai all right help me will you come help me come on ah però dai sembrava ha reagito oh mi ha dato un consiglio di affrontarlo in un altro modo allora adesso adesso sto pensando a come ammazzare il poliziotto l'interruttore rotto e la candela nel e la candela nel condotto di reazione sono le due cose fondamentali per uccidere il poliziotto sicuro secondo me se mi nascondo forse devo nascondermi in camera lui prende la scossa e deve succedere qualcosa per far per far tipo esplode per farlo saltare in aria roba del genere c'è qualcosa comunque adesso pensiamo ad accelerare le tempistiche con la moglie che è un assassino tanto per iniziare guardaci un po' va oh dille cosa è successo e una volta in cui fuggì non penso che pugnalarlo sia la cosa giusta ragazzi credo che il coltello mi serva solo per liberarmi dalle fascette mi serva un piano per far fuori il nostro amico no 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 Che c'è da fare? Le sfonda la serratura raga Spacca tutto il poliziotto 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 God I don't wish Why did you have to ask me about it? Why did I tell you? No Non so davvero Però non è un caso Che possa mettere una candrina Bella Croyo No non l'avevo vista Grazie per la sabbia È venuta nel clan Ma lei è anche senza tu che sta tutto buono Ma lei è anche senza tu che sta tutto buono Vabbè proviamo a usare l'interruttore Ma io mi sto Nascondendo Rimane Rimane immobile Tipo Sì Così È sempre facile Però alla revolver La missione è fargli tirar giù la revolver E quindi Secondo me Secondo me Io non devo dire a mia moglie Che so di lei La vera mossetta da fare qua Apre È veloce Vai 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 Entra Ma muore di nuovo Hai ragione Muore lei così Now we wait Beh Ok Voglio provare È un gioco Se il gioco è fatto bene Contempla più possibilità È questo È il bello Questa è arte Cambiare posto all'orologio In modo che non possa averlo No Non posso Perché sa di me Perché la moglie Se io vado a prendere l'orologio La moglie mi fa sgamare Quindi non c'è modo di nascondere l'orologio Non è Non è prevista questa cosa Ti metti a letto Non continui con me Sei proprio di compagnia È noiosissimo Beh intanto tu non ci stai anche provando I don't know what you This is a mistake Uh-huh I don't You must be Look I don't know You don't have to handcuff me We can talk about this We will I don't know who you are But I am not who you're looking for This Anyone else? It's a mistake Come on out Please Please don't hurt me Anyone else here Husband Boyfriend Girlfriend My husband He's at work He'll be here Any second All right Just a mistake Eight years ago Your father A gun Ring any bells? Why are you asking? Come on Skip this part Please I swear Oh You're gonna give me his watch Only question is How much you make me hurt you Before you do I don't know about anyone Keep lying See how creative I can get Help Help Be honest with yourself You knew this would happen There's no cavalry coming Nobody's gonna save you If you want to live Tell me where the watch is This is your very last chance It's 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 In the vent In the bathroom Under the medicine Cabin Good girl It's there I gave you what you wanted And I won't tell anyone I swear Jesus Hey All right All right I'm good I'm good Oh baby E perché lo faresti? E il tipo viene in mente di bere l'acqua? Sì assurdo Ma lui mi ammazza prima di chiederglielo Cioè lui mi ammazza Grazie Smilas per il ventesimo Il Non posso mettere Non L'orologio Se io non mi faccio vedere Lui va a prenderlo Ma non c'è modo per me di nascondermi Con la moglie che sa che io sono in casa Non posso nascondermi senza che la moglie E mi dica dove cavolo sono Ah è vero La moglie posso addormentare Bravi Vero Posso addormentare la moglie Giusto Io la faccio addormentare Così non Non gli dice che sono in casa Grazie al cielo No ma lui se entra in casa con la moglie Vieni qua Vieni che lo risolviamo La moglie deve dormire La moglie ha sete Ora tra poco bere Subito La moglie va fatta addormentare Questa è già una mossa Brava Vieni qua Norma Andiamo No Sì Sì ma ne restano altri Vabbè Ok la moglie ha fatto addormentare Così ho la possibilità che il tizio cerchi per casa Non sono un carretino Ricordavo che beveste da quello Ok Sono sbagliato Vieni qua Siediti che lo sto risolvendo Vieni qua che lo sto risolvendo Allora Io la faccio addormentare Così il tipo arriva Mi devo nascondere No perché non so Sì Sì E come faccio a farlo bere Secondo te un serial killer Arriva in casa E beve l'acqua Ma lui come faccio a farlo Ah I didn't hear you come in Best night ever Let me know Yeah I will Vieni con me a darmi una mano Invece che stare lì dal letto Guarda che il coltello E prendere l'orologio È un'altra parte importante Bisogna capire la sequenza giusta Qual è La puoi liberare Sta serratura Senza farmi fissare Aspetta va Chiudi Chiudi la porta Non pensare che sono pazzo Onde sono i bichetti? Ah non sono i bichetti Sono qua guarda Io lo doio Io lo doio Uno? Oh Sì Grazie Stavo a prendere Un'altra Da poco lei si fa una bella dormita Fermiamo un attimo il tempo Lei si addormenta Io prendo il coltello E ora prendo l'orologio Quando lui arriva Quando il poliziotto apre la porta Gliela faccio trovare aperta? Sì o no? Sì Gliela apro io? Mi arresta Prendiamo l'orologio E lui andrà a cercare in camera In quel punto Perché vorrà vedere Se c'è qualcun altro Con lei Prima di ucciderla E allora è lì Che io entro in azione Con l'interruttore Mi piace questa sequenza Mi sta piacendo Come l'anzia mi interpretando E mi sembra interessante Lei si sta per addormentare Proviamoci Non ho preso il lumino Non ho preso il lumino Non ho preso il lumino Feloce Cosa vuoi? Va a dormire Ah lei va a dormire Ah Lei va a dormire Quindi lui lo apre dentro Ok Lui deve accendere la luce Lei non l'accende Lei si è messa a dormire direttamente Ok Questa è buona Questa è buona Questa è buona Lei va a dormire Perché l'ho addormentata Grazie Tecla per il terzo mese Vieni Norman Vieni a sederti Sta andando tutto bene Guarda Lascio qua La domanda principale è come lo ammazzo Come lo ammazzo Cercano di che piglia l'orologio e sa ammazzare la moglie L'ammazza Eh Leggiamo come Leggiamo la stile norma Proviamo La porta della camera chiave Eh ragazzi Purtroppo questo non si può fare Non è giù Cioè non è che non pensano che non sia giusto Penso che lui arriva Con la porta spalancata Anyone home? Questo ero vista in casa E tra poco va in camera da mia moglie Non puoi le dico Ma perché dici che non l'ammazza Non l'ha uccisa? Non l'ha uccisa perché sta dormendo Non l'ha uccisa dice Norma Ok scusa Dai ammazzani Raga Secondo me questa era bella Scusa mi vieni qua Vieni a vedertela Scusa scusa Ho sbagliato Non l'ho capito Pensavo che tu lo volessi ammazzare Scusa Norma voleva che lo lasciassi così ragazzi Fino alla fine La luce c'è in camera La luce c'è in camera La luce c'è in camera Non la candela Non la candela ma la chat Mi ha aspettato che potevo farlo Con lo suggerimento Giusto per farmi Ma Ho detto che potevo Scusa Vieni Ho detto che posso prenderla anche senza Brava Mi ha ricordato cosa devi fare Non ho preso i sonniferi Sono pieno di roba Ho detto che I Forse La La Le L'ho La Non La . Sì 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 Mi Sì Sì facciamo la giocata di norma ragazzi preparatevi vieni vieni l'arma mi sta dando suggerimenti da dietro ma la giocata è bella è around having trouble sleeping you have so tired all of a me e lei mi vede che metti sonniferi non viene il dubbio ma non è che per caso le messe anche a me siamo la polizia perché in realtà voloso non volevo uscire da sì sì ragazzi ma ho chiuso la porta per errore tranquilli non volevo uscire chiamo la polizia di che tua moglie è priva di senso l'orologio è a posto mi devo solo nascondere regneresti la luce vuoi luci e che inizi la festa io non faccio niente l'orologio è a posto probabilmente mi trova comunque, non lo so probabilmente io se fossi uno che entra in casa le aprirei tutte le porte il Baruzu, grazie per la sub cosa? tornisti anche io insomma a lei? ma non lo so grande il Baruzu voi spegnereste tutto dice la chat, prova a spegnere tutte le luci togli le candele, chiudi la porta chiave ed è finito e non faccio ma niente che da metti Oh, fuck you. Tu dici di mettermi a fianco a lei a dormire? Vuoi vedere come mi sveglia per... Ehi, tu! Ragazzi, voglio provarla sta roba, voglio vedere cosa succede, come mi sveglia. Va bene. Sicuramente mi sveglia il tizio e mi manda a quel paese. Mi sveglia il tizio e mi dirà, uè, devi morire, scusa. Ebbè, divertente che non abbia ucciso. Lei non l'ha uccisa, è vero. Ho preso il coltello. Il famoso ti svegli morto. Esatto. Ti svegli tre metri sotto una pianta. Andiamo con ordine. Può essere un'idea, Norma. Vediamo cosa... Ragazzi, qua è tutto da sperimentare. E' passato un minuto. Secondo me la prima cosa da fare è prendere il telefono di mia moglie. La prima cosa da fare è prendere il telefono di lei, andare in bagno e chiamare la polizia. Poi esco... Dice un quarto d'ora. E vabbè, però il gioco... Al sesto minuto arriva il poliziotto. Aspettare un quarto d'ora penso sia piuttosto... Oh, sì, grazie. E' forse insensato. Ma suggeriscono... Di provare... No, no, lasciala addormentare. Se vede che metto l'orologio impazzisce. Questo ci va? Mi spiace, non ti so rispettare. Mi sono così tredo. Allora... ... Tendiamo la porta chiave... La... Oh... ...I'm just gonna lie down for a sec... ... ...we'll talk later. Mal che non mi ha sgamato mentre prendevo l'orologio, impazziva. Andiamolo da... Io la chiamo così... ...per non farlo. Secondo me per non farlo andrebbe fatto. La chiuda chiave la porta? Mi sveglia se lui sta dormendo. Deve essere più credibile la situazione, no? ... Devo prendere per me. Ma mi serve sapere che... Ma non può prendersi i sogniferi. Non sente niente, sto uomo. Perché... Ma può far finta di dormire, piuttosto, no? Ma lo fai ammazzare, sto uomo. Va bene. Ne sono passati quattro. No, abbiamo ancora due minuti. L'orologio stultuoso. Ehm... Non ho... Vabbè, la polizia non l'ho chiusa. Adesso le prendo. Mazza, sai, è proprio cazzo. L'interruttore, comunque, è a pezzi. Diceno di guardarlo, effettivamente è a pezzi. Non la posso prendere. Non lo fa fare. Metto adesso. Non lo fa fare. 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 Ora... C'è nessuno? Ora guarda quanto tempo passa Ho una parola, aprile Il fatto che lui tocchi l'interruttore è comunque importante Open the door now or I'll kick it down Uh oh US party What the Fucking light switch Ma'am Don't fucking move Come on up Listen I'm sure there's good explanation Open the door We'll figure this out together Enough Oh Ma se la Si sta andando sempre meglio Lo suo combattimento Tra poco diventa un esperto Che schifo le case in America Le porte e le vo di gioca alcio Manca un pezzo con l'interruttore Non è tutto giusto Manca un pezzo in cui lui con l'interruttore si deve Deve farsi ancora più male Mentre lei dorme Io devo fare qualcosa con l'interruttore perché la cosa che si piglia sto qua le fa proprio No No I dipinti comunque non li abbiamo utilizzati La foto non posso utilizzare Ma diventa una prova per dopo forse Si l'ho già con Si Vano mettere l'interruttore Dove lo mettereste con il coltello Proviamo C'è anche un condotto da reazione C'è anche un condotto da reazione Versare l'acqua per terra davanti al terra Ci deve essere un qualcosa da fare Si C'è anche un condotto Non certo E' anche un condotto da reazione E' un condotto da reazione Non so Ma non so Ma non so Se neanche looking La cosa L'interruttore Puede essere Quiere volte libero E' vero Sì 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 Oh 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 wow hey sono ok? man that hurt thank god i was wearing shoes right? no kidding just glad you're ok Esatto, quando lui entra nella camera adesso si piglia la scossa, però non so quanto, non dura lo stendo per qualche minuto, per un paio di minuti e lo accoltello mentre, eh sì lo accoltello mentre è stunnato ora facciamo la sequenza tirandolo sì, e poi vado a prendermi la scossa in camera va bene, va bene, vieni si sta, si sta, vieni vieni, che stiamo per rinforzare per risolverle, risolvere io chiamerei la polizia subito subito not ok 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 Che c***o? Sì, era il telefono, caro. No. No, le tazze, le tazze, le tazze prima. Io sento che... Ok, ok, facciamola senza leggerla. Non si è fatto male, ho annullato l'animazione. Avrò annullato l'animazione, non lo so. Ok, ho finalmente ricordo di mettere la chiamata in fuori. Siamo, grazie Valeds. C'è il predator del lupo oggi, sì. Armaniate medicinali. Eccolo. Sotto. Grazie, Armela. Io non li sto leggendo, grazie al cielo. Diventando più numeri i messaggi, non ci riesco a starci dietro. Per fortuna che tu li time out. Ah, chiudi la... Adesso mi sono... Eccoci. Questa è per te. Oh, sì. Ok, ora lei va a dormire. Io mi lascio... No, non lo faccio. Va a dormire. Bene. No, non mi ha fatto niente. Sì, devo andare a pensare. Non mi rinca. 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 Adesso, vediamo se viene qua. Mi viene il dubbio. Ho letto... Ho letto l'acciato e mi ha detto... Devi tagliare i cavi con il coltello. Non li ho tagliato. Cioè, prima ho usato il coltello sull'interruttore. Non è che serve? Eh. Ti fai chiudere la porta e guardare il tempo extra. Eh, ma il tempo a cosa mi serve se non ho chiamato la polizia? Tutti che mi dite guadagni tempo extra. Ma, se non chiamo la polizia... ...per fare cosa? Non ne ho. Devi manomettere dentro lui con il coltello. Ma non fa niente lui con il coltello. Lo sbatte contro il muro. Adesso, adesso, adesso lo accendo. Comunque lui ne ha preso la scossa al primo giro. Vero, giù, però. Mannazzo, vogliamo godermelo. Vediamo un po' cosa succede adesso. O gli faccio... O me li guadagno, sti minuti. Siamo a sei minuti. Chiunque a casa? Hello? Polizia! Vieni fuori! Ci chiama a controllare nella doccia, come scrive... Ematoma dice... E adesso? Poliziò. E godista. E' una pista. non lo ammazzassi mi servono delle informazioni qua ok e poi e tiro sulla porta cazzo devo chiamarla all'inizio mi deve dire qualcosa la polizia è troppo tardi oh you little shit she's made the biggest mistake your life one chance let me go right now son of a bitch I was gonna leave you out of this and now you've got this coming listen oh finalmente finalmente oh un po' di informazioni why do you want the watch I'm here for your wife let me go look I know about the pocket watch congratulations let me go you'd kill us for it are you even real police hey fuckhead you attacked me you don't have moral hide around here what are we being accused of exactly let me go right now oh ok listen you need to tell me why you're here I said let me go right now listen I'm sorry that I cuffed you but I'm innocent I just found out about all of this I don't have anything to do with it all her phone so let me go please listen I get it this is a lot I can help you just work with me and we can keep you out of this mi ammazza lo support you now now I can do in each loop I can do 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 I can Ora io ho le sue armi Un'informazione me la lascio se lo aiuto Sicuro, mi dirà qualcosa Io la vorrei aiutare Sono passati otto Il tempo passa così Ho il suo telefono, dai Non faccio, non faccio Non faccio questo Non faccio nessuno Per favore Sparagli alla testa Va bene, non mi ha detto niente Vediamo il telefono Il suo conto è in retrato Se il conto è segnalato Il suo conto verrà segnalato all'agentia di compagno Ok Sento usato Grazie a questo Rimasti delusi Un'assicurazione medica Ho appena chiamato l'ospedale Un'operante dei pagamenti Va tutto bene I nostri tentativi di riscuotere la cifra dovuta al suo conto Sono stati ignorati A una persona cara Da che mi non riesce a pagare i piedi Il suo conto è stato segnalato all'agenzia di recupero crediti Per evitare di lasciare un segno negativo Suo storico Le consiglio di contattarmi Non mi raccoglie Mi raccoglie anche a me Sono troppo aggressiva Che sono esalto Sono contenta che ancora mi dà ascolto E che riesco a parte Con gli arrivati È sua figlia Va, non dimenticare di chiamarmi prima della sessione Ok Ti scordi sempre Dopo sono troppo stanca Ok Ho una fortuna per oggi Solo quando sei stressato Vorrei che fossi qui con me Il cancro fa schifo Oh, padre Il film è about to start I'll call you back later I told you to call me earlier Love you Non penso Magari se lo memorizza Tipo tra un conto e l'altro Non è più Io me lo seguo Alla prossima vorrei solo dopo dieci minuti comunque si reserva dopo dieci minuti comunque il tempo si ferma ok hey there not now ok not now hello hey i got your number from your dad what your dad says that my wife killed her father he's coming to hurt her this isn't funny you creep listen i know about your situation and i'm sorry for you cancer is awful who are you fuck you and we're back can't get to that door not not ok guardiamo la tipa vediamo cosa bisogna farci dire mashi 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 hello hey hey your dad says that my wife murdered her father can you help please he is gonna hurt her Non l'ha fatto tutto lui a sto giro, perché? No, chiamare la figlia quando arriva il poliziotto. Oh... brava Jesco, grazie per guardarci quasi un momento no, 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 no. Now you, hands behind your back, please, don't move. Help me, will you help me? Shit, my wrists. I don't know. This is a mistake. Babe, will you tell me? Hey, listen. Non lo so, non lo so Questo è un misogliere Guarda, non ho... Non ho... No, non ho... Non ho capito Non ho capito Oh, 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 oh Non ho capito Non ho capito Ragazzi, lei è al cinema Ragazzi, lei è al cinema Non posso fare diversamente Cioè Se la chiamo quando il padre arriva È disastro Lei è al cinema Hey there Sì 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 Alessandro Alessandro Mio fratello Mio fratello è impazzito È il poliziotto IRL È arrivato a restare Norma Posso... Posso digitare il numero? Hey, hey Your dad says that my wife murdered her father Can you help? Please, he is gonna hurt her What are you? Listen I'm trapped in a time loop And I can't figure out Vabbè, abbiamo capito che questo qua è un fagione Di quelli importanti Proviamo in un altro modo Sono tante sequenze che comunque Andare No, secondo me c'è un modo per mettere tutti in pace Cioè, far star bene lui con la figlia E magari dare a lui l'orologio senza che muoia nessuno Lui ci ricomprerà qualcosa Servirà per dei soldi Questo orologio farà qualcosa No, scherzavo Oh, Dio Guarda Non ho fatto Per favore Parlare con me Quindi, allora Non mi importa Mi vergogno tutto ciò che è importante Sì Ma Le cose Basta Sì Dopo quella medicina di tei Forse trovassimo di farlo parlare Magari minacciandolo con la figlia Eh Io invece voglio provare Per il permanentore un attimo Farlo faccio entrare e provo a parlare Se non funziona Se non funziona Se non funziona Non posso prendere questo Silenzio Dio Sì What's going on? I have a warrant right here This'll go easier if you cooperate Hold still Sir? All right Let's go Sir? Listen Sure, sure Now you Hands behind your back, please Help me Will you come help me? Ma l'ora I can't I have a wrist I don't know This is a mistake Farlo entrare Parlare non serve a nulla Se prima la figlia Non lo chiama You're under arrest for your father's murder eight years ago No Please Hey, listen Will you Whoa, whoa, whoa I didn't do anything Sure you didn't Look, I No Look, I Listen I I Don't Why are you You're failing to shut Sure You're making a mistake This is This is No 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 Please Don't Stop Oh my God Help Please Somebody Help Oh All right It's getting easier Norma Lo gioco si fa duro E lo svegliare mattina e portarti a fare regolazione Hey there No no Ok Lo gioco si fa duro Duro Voi devi chiamare la figlia Voi cominciare la figlia poi chiamare il padre Ormai è scriptato la conversazione tra me e la figlia Non posso più convincere una ragazza Avete già visto il gioco non dite cosa fare Attualmente io non posso fare proprio niente di tutto ciò Scusate non pensavo se fosse necessario dirlo ma non dovreste dirmi come andare avanti nel gioco Ho pagato 21 euro per non per farlo al primo try perché c'è gente che l'ha già giocato Ma per portarlo a coloro che non sanno come funziona Detto questo visto che il 90% della gente non sta scrivendo in chat ma sta provando a godersi il gioco per quello che è Smetto di parlare di questa cosa però sappiatela Proviamo a chiamare la figlia mentre il padre l'ha maniettato ma è al cinema E' al cinema la figlia Ho preso i cucchiai Mi dice che è al cinema e mi riattacca E' al cinema per elevarla Nuova mossa Via E' al cinema E' al cinema E' al cinema Oh Ci sono un botto di roba che possano succedere comunque Che un botto di roba è un inventario che possano scbur... Lei tra poco va a suono I'm so tired all of a sudden. Just gotta lie down for a sec. We'll talk later. I think I don't know, Roger. I think I have an orology. Nasconditi sulla poltrona. Oh? Seriously? No, la poltrona. Non posso nascondermi. Mi becca subito. L'altra volta è entrato senza neanche aprire la co... No, no, raga. Lo si nasconde qua. Ma non posso nascondermi. Non può? No, no, raga. Facciamo così, facciamo così. Che va bene. E' già successo. Nella poltrona mi ha già beccato subito. No. No. Va bene. Va bene. Ah! E dagli da mangiare il budino Lei non deve ammazzarlo, ragazzi L'ha già è handcuffo Cosa? Oh, oh, you little shit You just made the biggest mistake of your life One chance Let me go right now Listen to me Your daughter Is sick Don't you fucking say another word Cut me loose now Why do you want the watch? What? I'm here for your wife Let me go One chance Let me go right now Son of a bitch I was gonna leave you out of this Dai You've got this coming Fuck Listen I'm sorry that I cuffed you But I'm innocent I just found out about all of this I don't have anything to do with it All of the bullets So Let me go Use the pistol Please Listen I get it This is a lot I can help you Just work with me And we can keep you out of this Okay I will do whatever you want Smart I'm gonna get up slowly Don't do anything stupid Fuck You took my knife Think you're clever? You better cut these handcuffs All right Thanks You took my things Shouldn't have done that Wait, wait Gotta stop fighting that guy Get on Janie, all right? No, no, I need to Jenny me Damn, Janie No ora. Ok. Why are you in the closet? Why are you in the closet? There's some... Cindy... Art... They should be... 50... Sir... Get to a safe pl- Come on, man. And we're back. No, no. Ok. Ok. Sonnifero. Esatto. Come dice anche Crown in chat. Sì, mi piace come idea. You stop. You stop. And you're back. I'm a long way to go. Make it move. I don't like in the closet. Oh you're really careful? I'm a big fan. Um, no. You're pretty close. Il poliziotto non è un poliziotto, eh? Il poliziotto è un killer che non c'è bisogno di essere con la poliziotto. Or... They should be there in... 15 min... Sir, get... I wasn't expecting a storm tonight. Ah, l'ho preso. Oh, we gotta clean up closet. Non ha sistemata quell'arma. Having trouble sleeping. You have... Thirsty? Uh... No. I'm sleeping fine, but thanks. I guess. And we're back. Eh, nel senso. Era benissimo essere che l'ho scambiata. Tra l'altro mi sono messo pure la mia che sembrava essere quella con le pillole sopra il coso. Dai, su. Porca miseria, spacco tutto. Mi sono... Ho fatto per mettermi la cosa a me e poi me la sono messo, vabbè. La dormenza è che forse volevo rasvegliare la moglie. La dormenza è una squadra tranquilla. È una squadra tranquilla. Ok. Emergency services. There's somebody... Sending a you... Art... They should be... 15... Sir... Get to... A me sta piacendo molto. Ok. 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 I'm so tired all of a sudden Oh, I'm just gonna lie down, we'll talk Now, what are you doing? Ammazzati fino a letto, penso davvero lo stesso invece che addormentarla Beh, io ora aspetto e la sveglio questa volta mia moglie Così capiamo cosa dice del poliziotto Is that cold? Andiamo a letto, dobbiamo rimanere tutti e tre in vita Jesus Christ, stop! I'm not fighting you What do you want? What do you know about the nanny? Who? The nanny, the old man had the affair with What do you know about her? What do you care about the nanny? It was years ago Why do you want the watch? Shit I need a doctor Yeah, I'll say And I'm gonna hurt you again if you make me The watch, come on Fuck Fucking watch You have any idea what that thing is worth? Money? That's what this is about? You'd murderers for money? You really don't know? No Your wife Her father Closest thing to family I ever had You knew him? Know him He taught me everything I know He was good to me He taught me a lot I owe him this Now, will you please untie me? Sure He's dead He's dead Magari sento l'odore di bruciata e lei si sveglia, è quasi finito il finto. Potrebbe essere un'ideona questa, eh? Che ne dite? Questa è un'ideona da 100.000, 250.000 IQ o sbaglio? Non adesso però, and'è la finta. And'è la finta. And'è la finta. Oh, papà, il film è iniziato. Vi chiedi a te dopo. Mi chiedi a te, mi chiedi a te prima. C'è te. Devo svegliarla qua, sono già lì Mi permetto di svegliarla giù Eh, prima di senso io non posso parlarle ora Devi svegliarla Infatti non so che fare E' sempre stato così quel fiore Non l'ho detto So this was must be My father My father-in-law That we have And approach That we ever really drop the thread And approach the experiences Hey, sorry I can't talk right now Leave a message Perché c'è un altro pari di mani Non posso lanciarle là No, no, no I can't talk Wait, but Uhhh... ma... Oh, goddammit... Hai due paie di manette così puoi manettare sia te che tua moglie Vabbè, giusto, però perchè me le fa prendere giù? Ne serve una sola Però forse è più complessa del gioco Così come ci sono due cucchiai No? Sì, sì Ottimo, un bagno, un bagno Arrivo su Sì, sì 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 Mentre è impazzito mio fratello Eccomi qua Bene Allora mi metto le cuffie E chiudiamo il discorso Apple troll un botto Chiamiamo un po' la figlia va Non ho nessuna linea di Non mi chiami di nuovo Creep I wasn't expecting a storm tonight No devo parlare alla moglie Esatto 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 zio John Esatto Devo parlare alla moglie adesso È il momento di farlo Ora qualche info in più da chiedere Per cui chiede parlare alla moglie Lei rimane scioccata Se le faccio stavo Vedi Oh Oh eccoci Oh eccoci Non mi ha detto niente Non mi dà nulla I need to think about this I wanted to tell you I just I'm sorry I know it doesn't matter But I am Will you just say something Anything Here Are you even listening to me This has nothing to do with anything I can't take this I can't take this Oh come on Silence God Here Have the watch Thanks I should never have told you Oh god Baby Babe Babe Hey Leave a message You're just Ma'am Sorry Will you follow me To your apartment please I'm with the police Arriva Hitman Make a noise And I'll break your arm La Polaroid No In realtà No Non serve Comunque ragazzi Notate una cosa Se io metto Fin dall'inizio Nella griglia E li faccio così Ed io posso farlo Quindi posso svegliare Mia moglie Secondo me I must say I must say Don't fucking move Help me Help you And spot Don't move My wrists That was the way I came from you I don't know This is a mistake Babe Will you tell This is a misunderstanding Hey listen How's your daughter How's your daughter Vabbè Ma allora vuoi proprio morire No Joshi Non accende la luce In nessun modo Questo ormai l'abbiamo capito Una cosa è vero Diventa più facile Il loop Ho sbagliato Salutala Salutala Hey there Hey there I didn't hear you No now Ok Rude Si accoppi la moglie In camera Ti fiocchi subito N'armadio Ma non metti L'interruttore Tranquilli Ho un'idea migliore La candela finta Guardate Una candela finta Cosa vuol dire Che in realtà E comunque produce Brucia ossigeno E produce Nidride carbonica Quindi ipoteticamente Mettere la candela Nel condotto Di reazione Secondo me È una mossa Che può far svegliare La moglie Una certa Quindi io personalmente La voglio fare E' un'idea migliore Mi ha flashato qualcosa Ma c'è un'altra Grazie All'armadio E la camera Di che tua moglie Un assassino Non l'ho ancora mai provata Tra l'altro Si sblocca dopo Quella Una Oh Sblocca dopo Sblocca dopo Sblocca dopo Sblocca dopo Io la devi dire Della moglie Ci sta Guarda come si ammazzano Guarda Ok Perfetto Questa era ciò Che volevo La candela È in posizione Se Quella potrebbe Far svegliare La moglie Potrebbe L'orologio Adesso Lo diamo L'orologio Lo tengo io Ha cambiato lato Magari è perché Si gira Perché ci sei Metti anche L'altra Candela Va bene Mettiamo anche L'altra È elettrica È vero È vero Non serve a niente Nessuna delle due È una candela vera Come faccio A svegliarla Pensavo fosse fine Finta nel senso che Che intendesse Fosse una di quelle basse Che non è fatta tutta in cera Invece è proprio una candela Finta nel senso che Ecco In plastica finta Come dice il tipo Analizzandola Che faccio Cazzo La polaroid Potrei fargliela vedere Si Dai una coltellata Al vaso Ti piace un sacco Quel vaso Ci sta Vediamolo giù Effettivamente Ha una scena In cui lo guardo Ci sta Ci sta Che possa avere qualcosa È veloce Aspetta Aspetta tu C'erano col fiore E coltello E quindi Che cosa mi dovrebbe servire Fare questa mossa Ho un regalo Un regalo per lui Dai giù Guardiamo un po' Io te va Aspetta tu Ti pure Anca Ti Ti Anca 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 E Anca Di Di Anca 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 Di Anca Doug Anca Listen Here Why would I want that? Here Why would I want that? Fuck Is this the one you're looking for? Fuck off Fuck Fuck Mamma mia si mi ha rotto le scatole sto tizio Basta Non è sveglio il nostro protagonista in questi casi Lo riaccoltello Ammazzi però Perché dal nulla dovrei chiedergli della tata comunque Anche secondo me è da svegliare lei C'è che adesso cambia Oh Ah Ha parlato a vendere l'orologio Eccolo Why would she possibly do something like that? Money Jealousy A million reasons You should ask her What makes you think she did it? Of course she did it Same gun same room It's obvious How did her father die? Her She shot him Christmas Eve eight years ago Didn't kill him though Then on New Year's Eve She came back and finished the job Two shots Close range Whoa Wait what No 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 that's not true Whoa She told me she ran away on Christmas Eve But by New Year's On New Year's she was here She was hundreds of miles away when he was killed She's a murderer Mi serve la Polaroida adesso Eh It was someone else Look by New Year's she wasn't Sure she Oh fuck Oh I'm bleeding Abbiamo il tempo di fare questi giochi su Guarda la polizia Veloce Oh fuck Look at this picture Look at this picture What about it? Look at the date December 31st That's That's the day she murdered him No No That is the day he was murdered But she was hundreds of miles away I don't understand I don't understand No shit It wasn't her She didn't kill him So Who could have killed her father? I don't know Everything points to her Listen up Non sta morendo Oh shit I can't No Wait But But I God damn it Damn No No Oh shit No ... 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 Non so come dire questo, ma guarda, 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 guarda. Nooo. Me ne vado. Nooo. Hey there. I didn't hear you come in. Best night ever. Guess who may. Let me know when you're in the- Yeah, I will. Okay, let's sit down. Great. Just... Now, we've got to get this fixed, babe, someone's gonna get hurt. Ok. Tra l'altro posso farla pure, posso pure stunnarla. Potrei pure farla stunnare totalmente con la cosa, facendo così. Che sarebbe pazzesca, ma. Malos. I wasn't expecting it. I'm living the same evening. Mmm. I haven't figured out how this all works yet, but for example, if I leave the apartment, I immediately go back to the start of the evening. Oh, that's convenient. No, it's not. I can't leave. I think there is worse people to be stuck with than your loving wife. She's pretty hot. Babe, babe, I-I don't find this funny. You're a nanny. What do you remember about her? Uh, my nanny? Um, I was two when she left. I don't remember anything about her. The nanny from your father's affair. Affair? What are you doing? You're scaring me. And this crap about being in a time loop? I'm going for a walk. You better talk about something else when I get back. What? You're such an asshole sometimes. You know what? I think I've lost my appetite. She's got to sleep. Incredible move. Seriously? No. 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 Funny? Ooh, shit. I know that really hurts. I'm sorry. But you'll be okay. You're gonna wake up in a second. You're... You're not wearing shoes. Oh, God. Oh, fuck. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. un tizio se trova la molle così impazzisce prima di sensi è morta è morta la moglie ho fatto un disastro raga volevo sprancare la porta ho sbagliato raga meglio ho sbagliato ero curiosa anche scusate raga ho sbagliato si usa il coltello sul l'imperatore salotto ma lo metti anche quello no no non penso credo che solo quello è rotto solo quello nella camera dovrei parlare alla moglie raga qualcosa mi deve dire sbagliato sbagliato Non posso dirle cosa succede, si impazzisce se glielo dico. Il problema è che io posso farglielo credere. Vabbè. Impazzisce se lo fai. Adesso impazzisce, prima no. Lui è un po' insensibile a dirglielo così. Ed impazzisce. Va bene, proviamo a continuare a parlarne. No, no. No, no. 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 Ma il fiore era... Ma posso capire perché posso farlo? Non ha senso. Oh, dobbiamo cercare la scuola? Salute. Ma ok. Great. Thunder. I wasn't expecting a storm tonight. What the? You went through my drawer? You know I hate it when you go through my stuff. And a nice surprise, too. You know what? I think I've lost my appetite. I'm living the same evening over and over. Hm. I haven't figured out. But for example, if I am. Oh. No, it's not. I think there is. Babe. Babe. Then the next couple of minutes. Is this with all the repeat? He's gonna hurt us. Okay. He says he was. What are you talking about? My dad had a heart attack. So, about. Let's talk. Here's this. Thanks. But stop digging through my. Yeah. I don't know. I can't do that anymore. Oh seriously? I don't know. Okay. Okay. I don't know. I don't know. You're sleeping. I don't know. You're sleeping. I don't know. se io già avessi il coso potrei pure darglielo ok facciamolo diamo l'orologio giupro che è scalza significa significa solo che è scalza la tipa niente di più quindi quando c'è la luce assicuratevi di avere sempre le calzette si si glielo posso dare all'orologio vedono voilà ve l'ho lasciato sta arrivando il tipo per comodità lo lenzo per distinguolo dagli altri come on I know you're home open the door what the ovviamente lui mi trova e basta e finisce si ma prende la scossa solo una volta l'ha già presa la moglie quindi non può prenderla lui ragazzi finisce qua la storia no 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 What the? Ok, tu sei sul di rest. Non mi scherzo! Hey, guarda, guarda, guarda. Non mi resisto. Hey, ascolti. Come ti stai sul di rest? No. Va bene Apple non dice un tubo Non dice niente Non dice niente Finisce qua Ci siamo La strada è quella di far parlare la moglie Circa Accendi la radio che fa bordello Per cosa? No Ok Great Let's talk No 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 Come on, babe. Come on, try and get hurt. Ok, Kree. Adesso sto provando una sequenza un po' particolare. Ok. Oh, Hunter. I was not expecting a storm tonight. Alright, uh, table set. Nice. Great. Let's... Ma non puoi stare a tavola e parlarne? Let's talk later. Oh, my head. I'm so... I'm so tired all of a sudden. Baby? Oh, I'm just gonna lie. We'll talk. Oh. Oh, la frase faSabiana. No, la frase è morta. Oh. Oh, la frase è morta. Oh. Va bene, Fabi. Ci possiamo provare. Torniamo del tempo. Abbraccio la porta ora o prenderlo. Non serve interagire con il coltello se la moglie è svenuta senza che tu l'abbia utilizzato. Faccio già la Polaroid, cosa faccio? Via, via, via. Devo accontellarlo. Non è abbastanza. Comunque ragazzi il fatto che... Vabbè, ho capito che sei una pippa te. Mentre è svenuto va in bagno e nasconditi dietro la doccia dato che prima di andare in camera da letto va in bagno a controllare. Continua a non capire. Dite di fare in modo che lei svegli... che sia lui a svegliare lei? Potrebbe essere interessante. Non so se mi sono spiegata. Quando manometti l'interruttore da quello che sto vedendo basta solo che lo premi due volte. La moglie è morta senza che tu l'abbia utilizzato. Eh, sì, è vero. È vero. Ma allora cosa serve? Allora perché mi fa l'animazione del... E se facessi svegliare il tizio vediamo se sveglia lui mia moglie. E se facessi svegliare il tizio vediamo se svegliare il tizio vediamo. Non so neanch'io esattamente dove io sia arrivato. È un po' un disastro. Fallo svegliare ammanettato però. Magari non può perquisirla. Allora... 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 Mi uccide, Tekla. Sì, mi uccide. Sì, mi uccide. L'ho già accesa una volta la luce, in sta run. Mi sta venendo il dubbio. Mi ammazza, Ezerk. Ok, facciamolo allora. Ok, facciamolo. Ok, facciamolo. Questa storta la tipa. Sì, l'ho ucciso, ma non è quello lo scopo del loop. Il loop comunque dopo dieci minuti si resetta. Sia che io lo uccida, sia che io... Sia che muoia la moglie. Non è così intuitivo, eh. Si addormenta sempre più storta la moglie. Vediamo se si riadrizzi. Boh, magari è casuale. Magari non posso farla svegliare. Il mio piano adesso è quello di far svegliare il tizio. Rubargli le robe e farlo svegliare. Se ti ricordi ti picchia dopo che afferma, mi hai tolto le mie cose o una cosa simile. Ora aspettiamo. Che dite ragazzi? Non gli tolgo la roba, lo aiuto. Mi ammazza. Mi ammazza comunque. No, raga. Quando collabori ammanettalo e basta. Ho una notte. Ho una notte. Ho una notte. Ho una notte. Ho un'nappia ora o lo farò andrò che le dà. Il voi che faremo. Mi ammazza secondo me se gli lasci le sue cose addosso Qua? Ma? Qua? Qua? He just passed out. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Per il suo lavoro, aveva molti vengi, non sembrava che era il ragazzo più facile da affrontare. Sto dicendo, non lo so, non ho mai mai immaginato una possibilità. Il tuo padre è vero. Questa è la data? Magari è la fine. Chiedi lei come ha fatto la notte. Il padre ha scoperto la nana e lei voleva mantenere, quindi è difficile mantenere il segreto. Ci sono complicate. La piazza ha morto in un figlio. Il mio padre è il mio padre. Voleva adottare il figlio, ma non potrebbe fare questo alla mia mamma. Il tizio è il fratellastro. Di lei. Di cuore. E cosa ha fatto? Niente. Non ha fatto niente. Non ha fatto niente. Non ha fatto niente. Non ha fatto niente fino al giorno che ha morto. Cosa sai del figlio della nana? È lui? Ah, ho la. Come, avevo la tua nana! Open la porta! Dietro di lui Infatti l'ha cercato e le voleva un sacco bene Ora ho capito Oh capito But you Police Oh shit I have a warrant for your arrest On the ground, now What the What did you say? What the I didn't kill anyone What the No excuses You have to listen to me No, I do not Only people I have to listen to Are my daughter and my mother And my mother's dead Now shut up That's enough Hold still No, it's sono arrivato tardi vero col coltello beccato uccidilo l'aveva fatta ce l'aveva quasi fatta beh interessante potevo farlo ucciderlo comunque mi sa che è la madre di loro due la tata che ha ucciso il padre andiamo veloci? stavolta gli ha tirato... vabbè ci siamo capiti il mood di quando lui avanza con la storia la tratta come se fosse un omicida oppure come se sembrava il modo in cui la bacia vorrei essere più veloce devo scegliere a fare le scelte giuste la tratta è morta di parto? come? io io ma non ha preoccupato ha salvato qualcuno che avrà provato questo no un uccidio è tornato a rinchiare che? era vicino al tuo padre e quando il tuo padre morto è ok ok siamo pronti stavolta ok stavolta più veloci ok stavolta più veloci ora aspettiamo mi sa che continueremo un'altra volta questa questa Sì, chiede un po' di più, e poi mi prendo il tuo cuore. Cosa ti dice? Non uccidio nessuno. Guarda, posso... Non scusami. Tu devi ascoltare a me. No, non ho. La loro persone che ho ascoltare sono mia figlia e mia madre. E mia madre è morta. No, chiamate. Cosa, io... Sì. Ah proprio scema questo Basta Ragazzi Va a dormire Le due Basta È stato bello Fantastico Begli intrecci Ho imparato un sacco di cose E mi fa un sacco piacere Bellissimo Ma continuiamo Continuiamo domani Lo continuerò domani Grazie al Sifar Per essere arrivato A non contribuire a nulla Se non a far capire Che tu l'hai visto il gioco Mi fa un sacco piacere Però Lo continuiamo poi Penso che si tira un'altra sessione Grazie Grazie ragazzuoli Abbiamo visto un sacco di modi Per avvicinarci A scoprire qualcosa in più Abbiamo visto davvero tante stasera Bello Io Mi piazzo nel letto Fate bravi Non lo so se lo porterò Nel primo pomeriggio Ma penso primo pomeriggio Sì Lo voglio finire nel primo pomeriggio E poi giocavo a Deathloop Buonanotte a tutti ragazzi Mi ha fatto un sacco piacere Torno in schermata Spero che Spero insomma di Di finirlo domani Più o meno un po' di cose Le abbiamo scoperte Fate bravi E buona Notte A domani pomeriggio E buonanotte a tutti Grazie 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 a tutti